Ben trovati all'appuntamento con dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. In questo nostro appuntamento ci sono quattro argomenti. Allora partiamo subito parlando della sanità perché è arrivato il via libera dell'aula allo psicologo di base sul territorio. È stato insediato anche l'osservatorio della legalità preseduto a Don Andrea Bigalli, poi io e il tampone, un libro disegnato dai ragazzi delle scuole di Bagnaripoli e poi il bilancio dei cinque anni di attività del Corecom insieme al Presidente Brogi. Il Servizio Sanitario regionale quindi avrà una nuova figura a servizio della salute dei cittadini, quella dello psicologo di base. La proposta di legge che prevede la sua istituzione ha ricevuto la definita approvazione del Consiglio regionale. A presentare la proposta inizialmente sono stati i numerosi consiglieri del Partito Democratico ai quali si sono poi appoggiate le firme di molti consiglieri regionali di ogni gruppo, anche di opposizione. L'atto quindi è stato approvato dall'Aula con 37 voti favorevoli, l'astensione di Elisa Tozzi del gruppo misto Toscana Domani e Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle non ha partecipato al voto. Finalmente passa un messaggio che la salute mentale è fondamentale quanto la salute fisica. È per questo che abbiamo approvato a larghissima maggioranza una norma che definisce lo psicologo di base. Forse ci è servita la pandemia per accelerare in questo senso ma è una risposta che noi diamo. Oggi tutti i cittadini della Toscana, sia quelli che soffrono di più, sia chi ha più risorse, più possibilità, avranno la possibilità di accedere gratuitamente allo psicologo di base. Questa legge pone un punto essenziale in un momento in cui noi stiamo costruendo il modello di casa di comunità toscano e questa legge dice che lo psicologo di base deve essere dentro la casa di comunità e deve essere in rapporto stretto e sinergico con due soggetti che sono da una parte il servizio di salute mentale dell'azienda, tra te che si dice che il coordinamento scientifico e l'indirizzo e il controllo lo fanno il Dipartimento di Psicologia dell'Asa di Salute Mentale. Dall'altra parte con il medico di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti territoriali perché nella legge abbiamo scelto che non ci può essere un accesso diretto del cittadino allo psicologo di base ma l'accesso è mediato dal medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta o lo specialista del territorio che possono indirizzare. Questo perché ci fosse uno stretto legame tra tutti i soggetti erogatori dei servizi nell'ambito della casa di comunità e quindi una scelta forte dove si dice in Toscana nelle case di comunità ci devono essere i medici, gli specialisti ma ci devono essere, avevamo già detto gli assistenti sociali, ora diciamo con questa legge in maniera chiara anche lo psicologo di base. Il chiedere l'aiuto di un terapeuta, di un psicologo deve diventare qualcosa di naturale come chiedere a un medico di base proprio perché è necessario uscire diciamo da questa bolla di anormalità che sembra circondare delle volte le persone. Maggiore attenzione deve essere dedicata ai giovani, ai nostri ragazzi, ai nostri bambini e su questo sono contenta che siamo andati dietro a una scia che aveva inaugurato il Movimento 5 Stelle nella scorsa legislatura quando nel piano strategico della sanitaria è stata dedicata solo una scarna pagina alla salute mentale dell'infanzia e dell'adolescenza, quindi questo è un grande passo avanti e siamo contenti che nel preambolo sia precisato questo passaggio. È un servizio sociale e sanitario ovviamente inserito nell'ambito dei distretti sanitari che dà una prima forma di risposta a tante esigenze che nascono nei territori e ci deve essere una collaborazione con il medico di famiglia, ovviamente con la pediatria, con gli infermieri di famiglia che molte volte conoscono le esigenze dei nostri cittadini, una collaborazione che consentirà a molti psicologi di essere convenzionati all'interno dei distretti sanitari e nel contempo serve rilanciare però massima attenzione alla questione che riguarda la salute mentale e per fare questo è necessario che si investa sempre di più su psichiatri, su neurologi, su servizi di salute mentale che possono poi dare risposte curative qualora le patologie sono oggettivamente in alcuni casi invalidanti ed entrano nell'ambito della sfera della sanità e della salute mentale. Però vorremmo alla fine del percorso che si possa sostanzialmente procedere a fare in modo che il servizio sia veramente fruibile nei modi più opportuni in maniera adeguata e omogenea su tutto il territorio regionale. Le cifre stanziate per questo primo periodo non sono molto alte perché se voi considerate che è stato dato 350 mila euro a fronte di un Abruzzo che ne ha messi 400 mila è ovvio che non ci sarà grandi disponibilità. Però credo che sia stato fatto un passo importante e che questi medici, psicologi in convenzione piano piano potranno essere messi a tempo indeterminato con il lavoro fisso. Non credo che legiferare su una spinta emotiva poi porti a valutare nel pieno quelle che sono invece un complesso secondo me di criticità che riguardano l'insieme del servizio sanitario toscano. Noi abbiamo una costante necessità di risorse, abbiamo una costante necessità di interventi, faccio riferimento banalmente anche solo al fatto delle automediche che oggi non hanno il medico a bordo, alla questione dell'emergenza, alla questione dei pronto soccorsi. Ecco, io credo che prima di andare nel particolare, magari su un'onda emotiva, comprensibile anche, si debba invece guardare con molta attenzione non solo alla questione delle risorse e quindi della programmazione, ma anche alle tante questioni irrisolte. Cito di nuovo la questione del 118 che era esplosa per esempio nel Chianti, una mozione che ancora oggi non ha visto il pronunciamento della Commissione Sanità, benché sia un tema che ha visto anche la raccolta di firme di un intero territorio. Ecco, la mia visione è che si debba partire da altro in questo momento sulla sanità toscana. Insediamento della Commissione di Orientamento dell'Asservatorio della Legalità, istituito con la legge regionale 42 del 2015, all'obiettivo di raccogliere informazioni sul progredire dell'eventuale presenza anche sotto forma di infiltrazioni delle organizzazioni malavitose sul territorio toscano e avanzare proposte per contrastare ogni forma di criminalità organizzata. Dall'osservatorio, oltre al presidente Mazzeone, fanno parte Don Andrea Bigalli, che ne è già stato designato presidente della deliberazione dal Consiglio regionale. Sono davvero felice oggi che parta il lavoro dell'osservatorio regionale per la legalità, l'ho voluto fortemente, lo abbiamo voluto fortemente, per dire che la Toscana è e resterà dalla parte giusta della storia quella della legalità che combatterà con tutte le proprie forze le infiltrazioni criminali che purtroppo anche nella nostra regione ci sono in forma differenti rispetto ad altre regioni d'Italia. Un grazie a tutti coloro i quali faranno parte dell'osservatorio, in particolare a Don Andrea Bigalli che lo presiederà. Saremo sentinelle anche noi della lotta alla legalità, faremo la nostra parte insieme a tutte quelle associazioni, a tutti coloro i quali con impegno e dedizione lo fanno ormai da tanto tempo. Siamo di fronte a un'istituzione, una emanazione diretta del Consiglio regionale, la quale però si dota di una commissione di orientamento. È importante creare questi ambiti in cui interagisce la società civile attraverso la dimensione associativa, degli enti amministrativi, delle realtà anche di volta in volta saranno convocate in modo che l'osservatorio stesso si orienti con le varie attività di ricerca, esplorazione del territorio, comprensione dei meccanismi dell'infiltrazione, dimensione del contrasto in quanto tale con tutte le realtà appunto che in altri ambiti sociali lavorano su questa tematica. Quindi è quanto mai importante che questa commissione faccia un lavoro il più aperto possibile, il più attento possibile a tutte le voci molteplici che arrivano sul territorio a riguardo. Finalmente si insedia questo osservatorio. Sono contenta di farne parte perché la legalità è il punto più importante per tutti noi, dentro o fuori dal palazzo. Questo osservatorio vedremo se potrà avere delle cose concrete da proporre, penso di sì, visto tutte le persone che ne fanno parte e quindi cercheremo tutti di contribuire in modo che la Toscana riesca veramente a combattere tutte queste, diciamo, mafie che ci abbiamo. Io vengo da un territorio, Massa e Cozzile, dove ci sono diversi beni confiscati alle mafie. Fu addirittura, mi sembra nel lontano 86, il primo comune dove fu confiscato un bene alla mafia, che è stato poi, diciamo, ristrutturato, sede adesso di una associazione contro la droga e quindi a fini sociali importanti. Montecatini ha, su a Montecatini Alto, un'enorme struttura confiscata alla banda della Magliana che sta lì, non mi ricordo più da quanti anni, e che deturpa tutto il paesaggio. Quindi vengo da cercare tutti nei vari territori, appunto come diceva Don Galli, di stare a sentire i territori proprio per capire, aiutare ovviamente le forze dell'ordine. Quindi tutte le voci sono importanti. Presentato nel Palazzo del Pegasol Volume con i disegni dei bambini di Bagno a Ripoli, io il tampone raccoglie elaborati disegni e poesie delle alune e degli alunni dell'Istituto Comprensivo Antonino Caponnetto di Bagno a Ripoli, protagonisti dello screening di prevenzione anti-Covid. È un'iniziativa importante, va fatto un plauso particolare al Comune perché ha portato avanti un'iniziativa in collaborazione ovviamente con la Fondazione e con il mondo delle misericorde di un'iniziativa che noi avevamo promosso in Consiglio regionale. L'idea dei test salivari fu una battaglia per cercare di dare ai ragazzi l'opportunità di partecipare nelle scuole in presenza, per fare la didattica sempre dentro le scuole ed era una grande opzione che riuscimmo anche a introdurre in un atto di indirizzo del Consiglio regionale della Toscana. Un'iniziativa che poi arrivò anche a Roma a validare questa iniziativa. Poi nel tempo siamo persi perché non è stata altre volte replicata ma qui va dato un grande applauso all'iniziativa che ha portato nel Comune di Bagno a Ripoli ad essere una delle iniziative più avanti in Italia rispetto alla possibilità di consentire ai ragazzi di partecipare in presenza sempre a didattica e rimane un'esperienza che può essere comunque sempre replicata a quello che si dovesse riverificare in una condizione che ci auguriamo che non si debba riverificare di pandemia di quei livelli. Credo raccolga anche la storia di un territorio che si è particolarmente impegnato nel momento della pandemia per dare anche la possibilità di andare frequentare la scuola con regolarità per i nostri ragazzi e viverla fino in fondo un'esperienza sicuramente drammatica difficile come la pandemia però renderla anche dare quella consapevolezza ai nostri studenti e ai nostri ragazzi. Su questo sono state straordinarie le associazioni del nostro territorio, sono state straordinarie le scuole che hanno aderito al progetto. L'idea era di documentare quell'esperienza di vita scolastica che facevano gli alunni del tampone fatto a scuola, quindi all'interno della scuola, perché forse avevamo tralasciato che per loro questa sarà un'esperienza indelebile, in qualche modo segnerà il ricordo della loro esperienza scolastica anche negli anni futuri. È venuto fuori questo libro, devo dire, meraviglioso perché raccoglie tutte le testimonianze di ragazzi che hanno passato quel periodo e quindi è una cosa molto interessante per vedere le sensazioni di ragazzi, di giovani, di bambini e devo dire che c'è stato un grande lavoro di gruppo con gli infermieri che hanno dato una mano a farlo, che hanno dato una mano ai ragazzi anche a parlare di questo argomento che sicuramente segnerà la loro vita. Un bilancio di fine mandato per il Corre come il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana. Il Presidente in scadenza Enzo Brogi fa il punto sull'attività del Comitato durante il suo mandato che è iniziato nel 2017. Ascoltiamo. Corre come un acronimo complicato e che spesso induceva anche a confondersi con altre associazioni e poi siamo nati vent'anni fa quando ancora c'erano i telefoni e i gettoni e il PC era uno storico e nobile partito dell'altro secolo. Quindi abbiamo provato a modificare il modo di comunicare il nostro lavoro. Noi siamo una vedetta della comunicazione a 360 gradi, cerchiamo di tutelare i cittadini per la difesa. Qua dietro ci sono quintali di pratiche che cittadini, aziende si sono rivolte a noi per tutelarsi verso difetti, errori e ritardi di comunicazione ma poi anche sulle insidie e le opportunità che la rete dà a tutti in modo particolare ai giovani e penso per esempio al patentino digitale. La rete è straordinaria, ci consente in ogni momento di comunicare con tutti, di far sapere ogni cosa che noi facciamo ma arrivano anche continue insidie, in questi giorni si registrano fatti gravissimi legati proprio a tutto quello che sta nel mondo sommerso della comunicazione. Allora noi abbiamo provato con le nostre forze, soprattutto in Toscana, grazie alle Università della Toscana, all'Istituto degli Innocenti, di offrire momenti di formazione per i genitori, per gli insegnanti e soprattutto per i ragazzi, proprio perché questo strumento sappia essere sempre di più un'opportunità e sempre di meno un'impegno. Mi ero posto un impegno, quello di fare in modo che il Consiglio regionale si aprisse sempre di più e i cittadini fossero i protagonisti delle scelte che mettevamo in campo. Grazie ad Enzo Brogi oggi possiamo dire che il Corecom ha voltato pagina, è cresciuto ed è riuscito sempre più ad essere vicino alle istanze dei cittadini. Tanti i progetti importanti, penso alla Toscana che fa bene, rivolta al mondo del volontariato, alle buone pratiche di comunicazione oppure l'attenzione rivolta ai giovani, ai social network, a come si comunica oggi. Il modo di comunicare oggi richiede grande attenzione, una grande cultura perché è vero, la rete è un luogo di grande opportunità ma è anche un luogo in cui le ragazze e i ragazzi possono trovare pericoli. Allora il compito delle istituzioni è quello di formare ragazze e ragazze che sappiano utilizzare i nuovi strumenti di comunicazione. Ricordiamo che il Consiglio regionale ha eletto già quattro componenti del Corecom, il quinto componente ovvero il Presidente verrà invece nominato dal Presidente della Regione di concerto con il Presidente del Consiglio regionale e tutti i componenti restano in carica per i prossimi cinque anni. E questo era l'ultimo argomento per il nostro appuntamento per tutti gli aggiornamenti e le informazioni. Vi ricordo il sito www.inconsiglio.it Io vi aspetto come sempre qua, tra sette giorni, dentro il Consiglio.